buon pomeriggio a tutti allora parlerò del del progetto fish and chips dopo cambieremo un po' la l'acronimo del del nome non va avanti il powerpoint ok allora per per illustrare il il progetto mi piace ricordare le le parole di Gordon Child che diceva proprio che il suo essere archeologo derivava proprio dal contributo che l'archeologia può dare di utile alla società che consiste proprio nell'aiutare a pensare in maniera più chiara e quindi ad agire in maniera più più umana un un concetto che ha nel museo archeologico nazionale di taranto abbiamo riassunto nel pass for future che è anche il nostro pay off quindi la conoscenza del passato per conoscere il presente e costruire il proprio futuro e alla base del progetto fish and chips che illustreremo a breve c'è anche proprio il concetto del museo come spazio sociale quindi come costruzione di un ecosistema con tutta la sua comunità proprio perché costituisce un archivio di memorie collettive questi concetti sono stati alla base del progetto fish and chips che è un progetto interreg italia grecia finanziato con fondi europei che ha previsto vari partner fra cui l'università di foggia che è stato il capofila del del progetto a sinistra i colleghi che hanno creato la parte scientifica con anche il marta quindi Giuliano De Felice Danilo Leone Maria Surchiano all'università di foggia e il professor Giulio Volpe oggi università di Bari quindi fish and chips se è un acronimo un po' così autoironico in realtà come vedete sciolto appunto nella nella parte in inglese quindi che abbiamo dedicato a un progetto un focus su Taranto e le risorse del mare è un progetto che ha al suo al suo oggetto proprio la conoscenza dei beni culturali del patrimonio marittimo ma anche un progetto soprattutto su identità inclusione comunità e partecipazione attiva quindi è un progetto che si basa su un processo partecipato aveva un budget in fondo limitato di 950 mila euro i protagonisti appunto il focus su cui si basa il progetto sono proprio il patrimonio marittimo la pesca il mare però anche il patrimonio immateriale legato alle conoscenze alle tradizioni ai know-how del nostro del nostro territorio la scelta del partenariato legato ai casi di studio un progetto come dicevo articolato con più partner quindi il partner principale è stato l'università di foggia dipartimento studio umanistici e poi la regione puglia il museo archeologico nazionale di Taranto con commercio Taranto e proprio perché era un interreg coinvolgeva l'italia con Taranto e dall'altra parte appunto l'isola di Corfu che è intervenuta nel progetto con un partner scientifico l'università Ionia e poi il l'altro partner sempre scientifico istituzionale l'euforia quindi corrispondente della nostra soprintendenza e anche come partner associato la la cooperativa dei pescatori di Petriti appunto una località sull'isola di Corfu quindi gli obiettivi generali erano un approccio globale multidisciplinare incentrato proprio sulle attività produttive le attività legate al mare ma anche lo sfruttamento quindi la risorsa mare legato appunto a quello che è il patrimonio economico e quindi le risorse economiche anche attuali del territorio che continuano a essere legate alla pesca e quindi andare a identificare e valorizzare quegli aspetti identitari della comunità costiera soprattutto in relazione alla memoria storica del territorio quindi a legato come vi dicevo Corfu e Taranto Taranto in quello che è tutto il suo patrimonio marittimo anche legato alle rotte soprattutto appunto all'identità mediterranea e Corfu in particolar modo il villaggio di Petriti con la sua comunità è appunto la zona della della laguna. Alla base del progetto c'è stata proprio una vera e propria memoria storica quindi soprattutto quando Taranto era focalizzata su una sua identità marinare e marittima prima dell'acciaio quindi qui una breve citazione da dal celebre libro appunto di Pasolini la lunga strada di sabbia molto bella in cui parlava di Taranto come una un diamante in frantumi lui diceva che era come un ostrica in una conchiglia aperta questo era un viaggio che lui aveva fatto nel 59 quindi un anno prima che venisse costruita l'Ital Cedar che è stata la più grande acciaieria ancora oggi di Europa proprio a Taranto e in cui in realtà metteva proprio in luce l'importanza del patrimonio marittimo di Taranto quindi ben oltre questa prima di questa immagine che spesso tutti associano a Taranto invece dimostrando prima ma anche oggi che Taranto è anche oltre a questa immagine per fortuna quindi gli obiettivi erano quelli generali che vi ho descritto prima e la prima fase del del progetto si è focalizzata appunto su un aggiornamento della carta dei beni culturali della regione Puglia anche con il suo sistema informatico e al medesimo nel medesimo tempo i colleghi di Corfu hanno effettuato lo stesso tipo di progetto realizzare la carta dei beni culturali del mar piccolo di Taranto con il censimento di tutte le fonti non solo archeologiche ma anche poi scritte iconografiche cartografiche e poi delle analisi paleobotaniche e archeozoologiche sui riperti provenienti dal mar piccolo a cura del laboratorio di archeologia ambientale dell'unisalento la memoria storica di Taranto legata al mare ce lo raccontano le fonti scritte qui ho messo un breve passo da appunto la politica di aristotele in cui viene definito proprio il demo salo eutikos quindi dei pescatori e appunto come ci scrive in greco appunto aristotele ci dice che insieme a bisanzio erano le due comunità di pescatori più grandi del mediterraneo qui vedete un vaso a filtro un frammento policromo rifigurante probabilmente appunto un pescatore un personaggio maschile che trasporta dei pesci dal terzo secondo secolo avanti cristo proveniente dal museo archeologico nazionale di Taranto chiaramente le fonti scritte le fonti iconografiche ma le fonti archeologiche ci parlano di un'attività molto intensa del porto di Taranto qui vedete l'ubicazione indicato dalla freccia rossa nel mar piccolo del porto antico sia greco che romano che dove oggi insiste l'arsenale militare di Taranto quindi senza soluzione di continuità quindi una persistenza appunto di luoghi importanti legati appunto al patrimonio marittimo con una visione diacronica quindi che va dall'antichità al medioevo dove addirittura erano tre i porti e poi anche l'importanza del porto di Taranto come vediamo qui una bellissima veduta di Ackert fra l'altro che appunto è la reggia di Cheserta con la raffigurazione del porto di Taranto ma anche prodotti del mare che noi troviamo ancora oggi appunto nell'ecosistema marittimo di Taranto di cui ci parlano le fonti che vedete qui quindi Orazio, Ennio, Eraclide, Varrone addirittura appunto l'ostrica di Taranto come vedete che ci viene proprio indicata dalle dalle fonti scritte quindi con questa identità forte anche legata al suo patrimonio di biologia marina che è ancora oggi presente così come la raffigurazione che abbiamo del patrimonio marittimo all'interno del museo di Taranto anche reperti dei depositi che saranno oggetto di una mostra in parte digitale in parte anche fisica e di una pubblicazione scientifica che stiamo per pubblicare proprio su Taranto e i doni di Poseidon c'è Taranto e il mare quindi un patrimonio molto importante fra cui anche la raffigurazione sui famosi piatti da pesce anche la coppe laconiche pittore dei pesci che sono tra i reperti identitari del nostro museo però anche i citri perché come ci dicono le fonti scritte la specialità appunto la famosa cozza tarantina anche oggi è proprio perché nelle acque di Taranto ha questa particolarità di avere appunto un tasso di salinità molto basso proprio perché ci sono queste sorgenti di acqua dolce confluiscono all'interno del mare i cosiddetti citri che sono ancora una caratteristica appunto geomorfologica della zona e poi tutte le fonti molto interessanti anche diciamo fotografiche quindi di archivio dei vari allevamenti per esempio il pergolaro che lo ritroviamo anche nelle fonti archeologiche dove si è basata appunto poi la tutta la mitilicoltura di di Taranto che si usavano appunto questi questi pali conficcati appunto all'interno del del mare e con e con le corde su cui le larve appunto si impostavano e anche poi un escursus anche dell'ostricoltura questo è un punto di raffigurazione interessate che conosciamo il quarto secolo dopo Cristo insomma poi raffigurate sulle famose bottiglie sono state ritrovate quindi andate come come cadò come ai ai viaggiatori che ci descrivono appunto come avvenivano questo quindi dal quarto secolo dopo Cristo poi abbiamo una un percorso sempre di questo tipo di allevamento come vi ho mostrato prima che a Taranto era ancora presente nel ventesimo secolo come possiamo vedere passando dal diciottesimo secolo e vi farò vedere sempre una raffigurazione proveniente da Taranto quindi è proprio un paesaggio culturale tarantino e del territorio e poi le nasse che ancora oggi sono utilizzate vedete la foto del 2019 quando abbiamo fatto gli workshop con i pescatori all'interno del museo in cui con dei laboratori hanno mostrato come vengono realizzate le nasse e quindi abbiamo fatto questo studio insieme fra archeologi e pescatori di Taranto che appunto hanno vissuto il museo insieme a noi e abbiamo mostrato quanto questo percorso fra archeologi in realtà poi patrimonio anche marittimo di Taranto ci fosse una persistenza e fosse ancora attuale in questo percorso partecipato così come la tecnica della sciabica quindi della pesca con la rete astracico però diciamo poi trasportata a mare a mano dai pescatori vedete presente ancora nel 2019 e che in realtà appunto troviamo l'attestazione iconografiche già dal tardo antico poi fino all'inizio del novecento e fino ancora ad oggi quindi la pesca le peschiere facevano parte e fanno tuttora parte dell'attività tarantina anche con appunto come ci attesta questa fonte del cinquecento con una centralità eh di della città di Taranto molto importante all'interno del del Mediterraneo così come la salagione era molto importante e famoso il nel golfo di Taranto si produceva appunto il tonno sotto sale che aveva preso il nome da Taranto il famoso tarantello di cui parla ci parla Paolo Giovio proprio della caratteristica appunto di uno dei commerci più importanti che era legato a Taranto così come gran parte delle merci utilizzavano queste le piccole queste imbarcazioni a fondo piatto tipiche del mar piccole e quindi con come vedete qui le lancio di metrilicoltore e lo schifo tarantino proprio imbarcazione tipica appunto di di Taranto così come nelle fonti ottocentesche famosi quadri del canonico ceci addirittura come vedete utilizzano un mosaico di conchiglie pittura a tempera sul legno e tutta la parte bassa che vedete in realtà ci descrive tutte le tecniche di pesca che erano presenti nell'ottocento oltre che essere un patrimonio in sé naturalistico per il materiali che utilizza quindi sale saline salagioni facevano come vedete dalle fonti scritte ce ne parla eh Plinio nella storia naturale molto ce ne parla addirittura a boccaccio quanto fossero presenti e importanti appunto le sale sulle così come le saline grande e la salina piccola le vedete rappresentate qui del resto c'è un quartiere di Taranto molto importante si chiama eh salinella e e quindi anche nella toponomastica appunto è presente questa questa memoria storica quindi la la memoria di la disponibilità di sale favorì da una parte anche lo sviluppo di attività correlate per esempio la manifittura della lana la produzione delle salagioni e poi la lavorazione appunto della 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 porpora con i famosi murici eh conosciamo anche vasche importanti per la salagione come quelle di Marina di Pulsano di Lizzano e addirittura appunto Apicio ci parla appunto del liquamen che veniva eh che utilizzava appunto eh e parla appunto di di Taranto come vedete riportato nella fonte scritta la porpora Taranto era una delle capitali eh del Mediterraneo per la produzione della porpora che utilizzava appunto i ma i murici e come vedete appunto sempre da da Plinio eh ci sono appunto delle attestazioni di fonte scritte ci parla la famosa rubra tarentina eh di importanza eh veramente ehm forte così come questa statuetta ellenistica che abbiamo al Marta che utilizza nella sua colorazione del 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 manto appunto un la porpora quindi abbiamo le attestazioni di uso di porpora anche in alcune sculture tarantina quindi questo progetto ci ha permesso un processo partecipato quindi dalle varie fonti fino a una condivisione totale con la comunità eh grazie anche al laboratorio archeologia sperimentale con cui abbiamo ricostruito appunto la tecnica del dei murici e della e della porpora descrivendo appunto il processo e facendolo fare alla comunità tutta quindi non solo alle scuole ma tutti i cittadini che hanno partecipato insieme a noi a questo progetto di recupero del resto volevo far vedere che nella moneta tarantina e quinto secolo avanti Cristo sotto Taras sul Delfino c'è proprio rappresentazione del murice a dimostrazione di quanto fosse un settore economico molto importante appunto della dell'economia eh tarantina così come sappiamo nella memoria storica ancora memoria degli anziani il monte dei Coccioli come il testaccio a Roma per per le anfore dove appunto poi gli archeologi hanno scavato appunto resti importanti di lavorazione dei murici o il bisso la famosa penna nobilis grande mollusco eh esistente nel Mediterraneo in cui si ricavava la seta famosa seta di mare la cui produzione è arrivata fino agli inizi del del ventesimo secolo che oggi purtroppo esiste solo in sardegna che si spero sia reintrodotta appunto a a tarant e con cui si realizzavano appunto delle bellissimi elementi quindi eh questo ci serve a capire cosa è ancora per fortuna tarant non solo che cosa è stata quindi la seconda fase è quella proprio dell'inclusione della co costruzione con la comunità attraverso l'individuazione di terri rari tematici all'interno del mar piccolo la georeferenzazione ben individuati e la realizzazione di un web GIS che abbiamo fatto la ricostruzione di un pagliaro in legno cioè la tipica eh capanna dei pescatori legata alla vita dei metilicoltori una fattoria didattica legata alla metilicultura l'animazione di comunità del mar piccolo con tutti gli incontri che dicevo abbiamo elaborato la mappa di comunità e tutti i laboratori archeologia sperimentale e i prodotti poi molto mediali documentare la mostra di cui vi parlavo quindi eh con gli itinerari che abbiamo fatto insieme alla palù della vela che è una un oasi del WWF appunto per il progetto di Ecomuseo del mar piccolo e abbiamo costruito insieme a loro gli itinerari e la mitilicoltura con i pescatori a cui hanno partecipato tutta la cittadinanza gli itinerari quindi vari itinerari non spedonali ciclopedonali e poi ovviamente marittimi e diamantropologici quindi che sono poi diventati a libera fruizione di tutti con la costruzione o tutto l'associazionismo legata all'ecologia e alla sostenibilità di questo territorio di cui ha molto bisogno e poi di workshop ehm sulle attività di limite l'icultura le reti la cantieristica navale la tintura dei tessuti e poi il viso quindi i pescatori hanno costruito insieme a noi il progetto quindi venendo al museo eh costruendo veramente insieme a noi tutti i workshop trasmettendo i loro know how che sono legati ancora a molte fonti orali a un patrimonio familiare che si trasmette appunto di di padre in figli e anche la carpenteria navale quindi utilizzando il know how di maestri d'ascia ormai molto anziani che hanno trasmesso i loro saperi ai giovani grazie a dei giovani che hanno vinto questo progetto di inclusione sociale in Puglia eh quindi un'equip veramente dinamica che si occupa di carpenteria navale di restauro anche di scafi e di e di vele oltre che trasmettere il know how dei maestri d'ascia ai giovani spesso giovani e marginati che grazie a questo progetto ha permesso appunto la loro eh reintroduzionalità nella società con anche dei know how importanti da spendere nel mondo del lavoro quindi ha permesso di ricostruire una memoria storica che per fortuna eh di nuovo presente e anche un senso di appartenenza e di riscatto sociale così importante per una realtà come Taranto e poi ovviamente tutti gli archeologi come Francesco Meo è specializzato in archeologia del Tessuno uno dei più grandi esperti in Europa che ha ricostruito le fasi di lavorazione del bisso e anche dei come dicevo della porpora ricavata dai dai murici quindi la condivisione è stata soprattutto con i pescatori per ehm e con tutta la comunità per vedere quanto la conoscenza e patrimonio marittimo fosse ancora presente quindi anche sulla cultura della legalità e la sensibilizzazione su uno sfruttamento sostenibile dell'ambiente capirete quanto sia importante una realtà come Taranto per ricostruire una propria rinascita e a Corfu che cosa facevano i nostri colleghi? La stessa cosa quindi lavoravano con le comunità con i pescatori con l'ecomuseo di Petriti per ricostruire questa memoria che diventasse però un supporto per una economia circolare quindi anche uno sviluppo economico sociale del territorio. Quindi al centro il paesaggio di Taranto con il suo ecomuseo ma soprattutto con la sua ricostruzione di memorie collettive e poi ha portato alla mappa di comunità quindi lo strumento operativo del processo partecipativo degli abitanti per un'autorepresentazione identitaria e soprattutto riconoscere i valori per la rinascita di questa comunità e quindi per far riconoscere il proprio patrimonio per avere una coscienza appunto individuale come bene comune, rafforzare l'identità della sua comunità e rilanciare soprattutto i misteri tradizionali e un'economia legata alle piccole e medie imprese. Alla base ovviamente i nostri valori di public history, archeologia pubblica e poi l'importanza per noi i paesaggi culturali. Chiaramente le mappe di comunità si sono basati sui processi insomma delle parish maps insomma degli anni Ottanta a partire agli anni Ottanta inglesi insomma i colleghi inglesi sono stati primi a a creare i processi partecipati di mappe di comunità quindi un esempio dall'oggettività alla soggettività e questo ha portato alla mappa di comunità che trovate sul nostro sito in libero accesso tutto il percorso anche di quello che ha fatto la comunità di Corfu un 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 quaderno didattico che troverete anche questo sul nostro sito ehm di libero accesso e poi un docu film Ionio ehm dialogo tra due mari appunto da da Taranto a Corfu dello sceneggiatore regista Lorenzo Scaraggi e di Nicola Carnimeo che potete eh in una versione short di venti minuti scaricarvi su YouTube e vedere appunto il nostro il prodotto di questo racconto anche con il docu film. Ci sono state molte iniziative collaterali sempre di processo partecipato, la valorizzazione dell'ecomuseo, la carpenteria navale con l'officina Mare Mosso che è un esempio veramente molto interessante di start up che poi si è stabilizzata, la Ionian Dolphin c'è un errore, scusate Dolphin Conservation, lo studio dei delfini, il teatro delle Forche che ha creato questi spettacoli di teatro sia all'interno del Marta che fuori sulle rive del Mar Piccolo e le rievocazioni storiche con i Cavaliari delle Terre Tarantine. I laboratori di archeologia marina, voglio dire di biologia marina insieme alla Ionian Dolphin Conservation, sappiate che Taranto ha la colonia di Cetacea in libertà più grande del Mediterraneo, quindi nonostante quello che si dice di questo territorio, le rievocazioni storiche con chiaramente uno studio filologico molto approfondito fatto da noi archeologi e da questa associazione di grande livello. La rassegna Pontos, il mare che unisce, perché volevamo dare proprio questo di significato del Mediterraneo, cioè un mare che unisce e non divide, quindi con tutte le eccellenze del territorio in ambito musicale, in ambito teatrale, che hanno fatto una teatralizzazione di tutto il nostro progetto, però ritrascritto con il loro linguaggio, la loro rienterpretazione e anche sui luoghi, cioè il teatro diffuso nel Mar Piccolo per un racconto teatrale artistico di questo percorso fatto con le comunità e con gli stakeholder del territorio. Qui vedete alcune scene della stagione teatrale all'interno proprio delle sale del museo, non solo nel chiostro, quindi in mezzo alle collezioni del museo e poi un po' di rassegna stampa che ci ha accompagnato in questo progetto lungo questi, che non è stato un tempo abbastanza breve, perché chiaramente per fortuna la progettazione europea ci impone insomma un timing abbastanza serrato. Qui una breve carrellata di foto e vi lascerei con questo piccolo animazione. Quindi questa è una sorta di assaggio di quello che sarà la nostra mostra interattiva, quindi una mostra che valorizzerà i reperti dei depositi, perché all'interno della mostra su Taranto e il mare e i doni di Poseidon valorizzeremo non soltanto l'esposto, ma reperti che abbiamo fatto uno scavo all'interno del nostro deposito, quindi reperti inediti e mai esposti che parteciperanno alla mostra Fish and Chips, anche reperti interessanti legati all'attività di pesca. Quindi questa è una piccola introduzione diciamo animata che unisce appunto Corfu a Taranto. Quindi vi aspettiamo tutti a Taranto per vedere sia la mostra e poi la presentazione del catalogo scientifico. Grazie.